Più biciclette, più salute, meno automobili e meno inquinamento. È il commento del consigliere comunale del Partito Democratico Enrico Fumante che ieri in consiglio insieme alla maggioranza ha approvato la stesura del progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclopedonale Fanno Arzilla, accogliendo le osservazioni di cittadini e associazioni che si sono sempre battuti per questo progetto. Non sono soddisfatti invece Mirisola, Serfilippi e Tarsi che oltre a criticare il percorso stabilito hanno rimproverato l'amministrazione per aver impiegato ben 4 anni per stabilirlo e oltretutto accelerando i tempi solo a ridosso delle elezioni comunali. Il tracciato per il quale è previsto un investimento di circa 500 mila euro collegherà la ciclabile dell'interquartieri che termina in prossimità del circolo tennis alla nuova ciclopedonale su via Modigliani e via Paleotta fino a costeggiare il torrente Arzilla e a prodare in prossimità della zona mare. Oltre a un lavoro di regimentazione delle acque si provvederà anche all'illuminazione dell'infrastruttura che potrebbe poi allacciarsi alla ciclabile Fanno Pesaro. Questo tratto oggetto di dibattito invece alla fine rimarrà tale e non verrà asfaltato e dunque i pioppi cipersini non verranno abbattuti. L'unico intervento in zona sarà l'addolcimento della curva iniziale. E quindi portare tutta la città in sicurezza giorno e notte specialmente al mare senza dover attraversare la statale che è una fonte come dire di preoccupazione importante perché piange il cuore vedere tanti ragazzi la sera attraversarla di notte quando abbiamo a disposizione una soluzione come quella che vogliamo realizzare dove utilizziamo l'unico varco sotto la statale per accedere al mare. Quindi è anche una soluzione questa che ci consente di rispondere anche alla carenza di parcheggi storica della zona Lido. Aumenta un servizio anche alla sera sui locali, sugli operatori. Ci sono locali e zone importanti, Lido è la movida fanese, quindi portare i ragazzi anche dopo cena in quella zona lì in sicurezza è sicuramente un obiettivo nobile per la quale questa amministrazione ha deciso di investire sul territorio.